Il primo giusto per la scuola di Cali Dopo questa volta lì, mi sono finito a scappare d'acqua. Ah, ecco. Mi sono tornato a casa. Mi sono tornato a casa, mi sono tornato a casa, mi sono tornato a casa, mi sono tornato a casa. Mi sono tornato a casa, mi sono tornato a casa, mi sono tornato a casa, mi sono tornato a casa. Ma dopo il Brasile mi sono tornato a casa, i gini e i gini, 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 i gini. E qui le ha detto, perché mia sorella che aveva scoperto da me, qui andavano a torre a giocare, e quando è qui, era accaduto. Andrò a dire, nero i gini, prima di rimanere le persone, mi sono tornati, e di Senhor. Noi, e qui le ha detto, e io ero amato da cima qui lì a Pau, a Bernà e diceva che c'è un bel cavena che non c'è giù ma niente cavena. Allora è andò a me e terminò che fai da fuori a casa. Però parelli è passò. Lure ha mangiato. And'è stato lì, and'è, and'è cerchè. Ah, che stanno, che stanno.